Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale e oggi iniziamo una nuova rubrica alla scoperta dei talenti di Fallout 4, questo gioco grandissimo, innovativo, fantastico della betesta. Iniziamo da la forza, come vedete è uno dei quattro speciali, ossia dei quattro requisiti, scusate, sette requisiti delle caratteristiche del personaggio, quindi con forza, percezione, costituzione, carisma, intelligenza, agilità e fortuna, andiamo a vedere ogni singolo talento come viene sviluppato per la crescita del personaggio. Come vedete qui dello scorrere e del video ovviamente, ogni caratteristica ha la sua influenza sul gioco, scusate, e quindi andrà selezionata e aumentata e pure sviluppata a seconda delle caratteristiche che vogliamo dare appunto al nostro personaggio. Qui, in particolare nel nostro primo video, andiamo a vedere i primi due speciali, i primi due attributi, ossia la forza e la percezione. Sono partito dal video che sono a livello 26, è brutto da dire così in italiano che sono a livello 26, ma alla fine ero a livello 26 quando ho fatto questa piccola registrazione. Andiamo a vedere un attimo, con questo non utilizzatissimo metodo di fermare il video a seconda di praticamente quello che voglio spiegarvi. Proviamo a vedere come viene fuori e spero che vi sia utile questa mia guida. Allora, a livello 1 della forza, questo attributo fondamentale per gli attacchi corpo a corpo, vediamo pugno di ferro. Concentra la tua energia e scatena la furia. Gli attacchi a mani nude, infingono più 20% di danni. Ok, con un pallino, una stellina diciamo in forza, potremo sfruttare come vedete questo talento pugno di ferro. Gli attacchi infingono più 20% con a livello 1, mi sembra da quel che avevo visto. A livello 2 di questo talento, con un livello 9 di personaggio, quindi quando il personaggio sarà a livello 9, potremo incrementarlo a livello 2 appunto. Quindi un 40% più di danni e disarmare l'avversario. Wow, disarmare l'avversario è una cosa molto positiva in Fallout. Quindi la maggior parte dei mostri, facciamo una piccola parentesi, la maggior parte dei nemici più che i mostri che incontreremo avrà un'arma che sia un predone, un super mutante, un sintetico, qualunque sia la creatura che utilizza delle armi, questo talento appunto a mani nude andremo a disarmarlo, quindi avremo un vantaggio nel ricevere colpe, nel ricevere danni. Come vi dicevo appunto a mani nude quindi non dovremo utilizzare nessuna arma. Un 40% più di danni a mani nude mi sembra una buona percentuale. e poi a livello 3, che andremo a vedere fra pochissimo, avremo una possibilità di meno mare un altro avversario. Quindi più 60% di danni, quindi non tantissimi, se vediamo dal punto di vista pratico, perché a mani nude non avremo nessuna arma, quindi non sfrutteremo il bonus dell'arma ma solo della nostra forza. Quindi più alta sarà la forza, più danni faremo. Ci aggiungiamo un bel 60% di danni, quindi gli attacchi a mani nude potenti, quindi con l'attacco potente del joypad avremo la possibilità di meno mare un altro, quindi una gamba, un braccio, qualsiasi cosa che andremo a colpire. Ci vuole un livello 18 di personaggio, scusate oggi l'italiano non è un massimo oggi, quindi il nostro personaggio richiederà un livello 18, mettiamola così. Poi andiamo avanti nella nostra scoperta del talento a pugno di ferro, magari facciamo scorrere un po' più velocemente il video in modo che sia un po' meno noioso. 3, quindi il quarto, se va avanti il video ve lo dico subito, eccolo qui. Gli attacchi a mani nude infliggono 80% di danni, è una possibilità maggiore di meno male un altro avversario. Ci vuole un livello 31, quindi il personaggio diverso di livello 31, è a livello 4, ossia al massimo potere di questo talento pugno di ferro, in attacchi a danni doppi eppure critici con lo spawn, paralizzano l'avversario. Quindi quando avremo un colpo critico utilizzando lo spawn, paralizzeremo l'avversario appunto con l'attacco a mani nude. È automatico quindi con un colpo critico paralizzeremo. Provatelo su un deathclaw e vedrete che effettivamente paralizzare l'avversario, ossia un deathclaw con lo colpo critico, dà un enorme vantaggio, sia, vabbè, deathclaw, ho citato deathclaw perché è una creatura decisamente forte, ma anche tanti altri mostri che effettivamente sono molto forti. Poi, a livello 2 di questo fantastico talento che è la forza, troviamo un elemento intensivo, avvicinati al nemico le armi da mischi infliggono più 20% di danni. Quindi, come la talento di mani nude, qui con un'arma faremo 20% di danno in più. Quindi, attacco dell'arma più 20% e quindi un danno molto significativo, insomma. Con il talento a livello 2 avremo un 40% di danni con le armi da mischia e in più potremo disarmare l'avversario. Anche qui è molto proficuo disarmare l'avversario. Con un terzo livello ed un quarto incrementeremo il danno che faremo con le danni a mischia e in più disarmeremo l'avversario. Inoltre, a livello 4 di questo talento, quindi quando il personaggio è nostro, il nostro personaggio scusate, non ce la faccio. A livello 27 avrà 4 talenti in questo allenamento intensivo e colpirà tutti i bersagli che ha di fronte. Quindi, se avremo più bersagli, quindi saremo accercati da nemici, con questo qui colpiremo tutti quanti. Ok, andiamo avanti velocemente. Ottimo, quindi nei attacchi da mischia, nelle mischie, quindi nelle brawl. In fisica del nudo più che è un'arma mischia e con la possibilità di menomare l'avversario e staccarli da testa. Wow! Questo qua è molto bello. Quindi livello 42, quindi livello abbastanza alto del nostro personaggio, potremo menomare l'avversario oppure staccarli da testa. Armaiolo. Armaiolo, facciamo una piccola parentesi. Armaiolo è fondamentale, come no, dipende da che input vorremmo dare al nostro personaggio. Con armaiolo potremmo modificare armi e armato scusate l'armatura, scusate l'arma in un altro. L'armatura è di livello 1, quindi con tre pallini in forza, io li chiamo pallini ma sono stelline, quindi. Armature di livello con due, sì. Con tre pallini potremmo usare, sì, armaiolo, che ci permetterà più avanti, quindi fino a livello, scusate, grado 4 di armatura, modificarlo a nostro piacimento. Può dare un vantaggio molto, molto, diciamo, tattico, è un vantaggio tattico alla fine se troveremo armature, potremmo modificarle come vogliamo e quindi utilizzarle appunto durante il gioco senza dover cambiare ogni volta, senza dover sperare di trovare qualcosa di più forte, insomma. Quindi, sì, ero, non mi piace tantissimo come talento, come questo qua di Fabbro, che accede la forgia e accede, accendi la forgia, scusate, accede, gioco di parole, accede modifiche per armi da mischia, quindi 1, 2, 3 gradi anche qui per Fabbro, più sarei personaggio, più potremmo incrementare questo talento e utilizzeremo appunto per modificare le armi da mischia. Arriviamo a un talento fondamentale di forza che è arti di air pesante. Grazie a pratica manutenzione le armi pesanti infliggono più di 20% di danni. Qua funziona, sì, come le armi da mischia, come le armi disarmate, come quando si è disarmati, avremo un 20% in più di danno quando sceglieremo questo talento. Al livello 2 avremo un 40% di danni e una maggiore precisione di tiro quando non prendi la mira, quindi senza lo spawn, oppure senza mirare con il tasto apposito del joypad, o joypad, come volete dirlo. Infine, il 60% di più di danni a livello 3 e 80% di danni a livello 4, ma a livello 4 abbiamo anche la possibilità di sbilanciare l'avversario, ossia è uno stun, come dire in italiano, c'è appunto uno stordimento, lo sbilanciamo e quindi avremo più tempo per poterlo attaccare. C'è anche questo fallout 4, molto bello questa dinamica introdotta pesantemente questo fallout 4, che è quello di stannare l'avversario, di poterlo sbilanciare appunto. Artigliere pesante, le armi pesanti finirono i danni doppi, quindi pensate una mitraillatrice, come vedete qui nel disegnetto della miniatura, a canarotanti quanti danni può fare doppi. Molto bello. Andiamo velocemente avanti. Schiena forte, se hai una metà umana e metà bestia da somma, otteni più 25% di peso trasportabile. Sì e come no, dipende. Se noi andiamo in giro da soli e senza compagno serve, se non andiamo in giro senza compagno può anche non servire, ma effettivamente dovrebbe essere sfruttato, secondo me pienamente, schiena forte, perché ha intenzione di andare in giro con armi pesanti, che quindi potrebbero anche rallentare il personaggio, quindi, scusate, sì, il personaggio, al fine è il vostro personaggio, più che altro. E quindi, piccola pausa, e quindi lo, praticamente lo supporterete appunto in modo più, derendolo più dinamico. Quando ti asporti peso non puoi usare il tuo puntazione per correre, quindi, con, quando avremo l'inventario pieno, ci dirà, praticamente, stai asportando troppo peso non puoi correre, utilizzando il puntazione per correre, quindi potremmo correre alla fine, con il livello 3 di schiena forte, quindi, vuole anche questo, insomma, quando saremo saturi di oggetti, potremmo correre e quindi svincolarsi molto di più delle situazioni. Andiamo velocemente a vedere anche il livello quarto di schiena forte, che puoi avveggiare pienamente anche quando trasporti peso, quindi molto interessante. Quando saremo pieni saturi del nostro alimentare, possiamo utilizzare il viaggio rapido per andare a svuotarlo da qualche parte, magari anche a casa nostra. Mira precisa, sul bersaglio, la precisione di tiro senza prendere la mia è migliore con qualsiasi arma, quindi, solitamente, come vedete, la figura sta imbarciando una pistola, molto bello, molto bello utilizzarlo, molto buono, molto meglio, molto utile utilizzarlo, scusate il gioco di parole, con fucile a pompa, oppure mitraliettrici, appunto, cannelli rotanti, qualsiasi cosa che volete utilizzare senza sparare. Quindi, secondo me, molto ben studiato per chi usa, appunto, le armi pesanti, in questo caso, non ha bisogno di mirare. Molto, molto bello. Vabbè, la precisione di tiro aumenta con qualsiasi arma, quindi, con qualsiasi arma, migliorerà la precisione di tiro con mira precise a livello 2. Non è da sottolutare questo talento, effettivamente, è molto bello. Sfondatore, in corti ravvicinati, in corti ravvicinati, molto ravvicinati, i corpi a corpo con arma al fuoco infigono il 25% di danni in più. Wow, questo qua è molto bello, e, difatti, ci vuole 8 pallini in forza per utilizzarlo. È devastante, perché? Perché 25% in più con arma al fuoco, pensate, con... faccio sempre esempio del fucile a pompa, perché effettivamente fa molti danni, oppure fucile a caccia, oppure fucili in generale che fanno tanti danni da vicino. Quindi, pensate di poterli utilizzare in corpo a corpo, quindi con l'avversario molto vicino, che ne so, in una strettoia, in una casa che sono spesso utilizzate, dalle beteste, dalle case, come dungeon, alla fine. I conti ravvicinati ne trovate sempre, quindi è devastante questo talento sfondatore. Con il livello 2, il corpo a corpo con arma al fuoco infigono il 50% più di danni e non è la possibilità di meno male avversario. Wow, è fantastico. Questo è molto bello. Sfondatore utilizza, sì, la forza applicata all'arma da fuoco, quindi ci sta, ci sta di meno male avversario e di dare un 50% più di danni e quindi sempre stando molto vicino al bersaglio. A livello 3, 75% di danni e una probabilità maggiore di meno male avversario, quindi wow, anche questo, molto molto bello. Infine, sfondatore livello 4, il nostro personaggio dovrà essere livello 26 e con i colpi corpo a corpo con un'arma da fuoco infigono il doppio di danni e una maggiore probabilità di meno male avversario. Inoltre, potrebbe infiggere, wow, ah, scusate, dopo di danni, maggiore probabilità di meno male avversario, posso inoltre infiggere un colpo critico. Wow, quindi devastante questo qui, devastante sfondatore. Veramente consigliato per chi piace le armi da fuoco a corto raggio, ossia come dicevo, appunto, fucile a pompa, bla 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 e via di conseguenza. Ci vuole auto in forza, è un bel dispendio di punti, però secondo me ne vale la pena, sfondatore, è un'ottima abilità, è un'ottimo talento. Veloce, andiamo dopo, praticamente, umano albero con 6 mobili ottene 25 resistenze danni e attacchi mischia e mani nuda infigono 25% di danni. Quindi, rimanendo fermi sul posto, utilizziamo la nostra abilità per resistere ai danni di 25 danni, danni fisici intendono in questo caso, da come viene descritta il, da come viene descritta il, da come viene descritta l'abilità, quindi il talento, e gli attacchi a mani nuda infliggono più del 25% di danni. Combinate un po' questo qui con l'altro talento di pugno di ferro e vedrete che i danni a mani nuda saliranno a dismisura, vabbè, ci può stare, senza arma da mischia, i danni saranno, diciamo, minori di quando imbracciaremo un'arma, però, e ne fanno, ci fanno i danni, ci fanno. E a livello 2, più 50 resistenze danni e a mani da infliggiamo 50% o più di danni. Infine, quando sei immobile, puoi disarmare automaticamente i nemici che usano armi da mischia contro i te. Quindi, arriva il supermutante con l'asse in mano, sì, perché usano anche le assi, in Fallout 4, anche nei 3, vabbè, per darveli in testa, li disarmiamo e ci rimaniamo fermi sul posto. Wow, sì, come no, l'adicamento deve essere sottato bene, dovete avere sangue freddo di aspettare che l'avversario vi venga incontro, quindi dovete un attimo studiarvelo bene, cioè è difficile utilizzare questo talento ai suoi massimi potenziali, insomma, quindi, tenetelo ben stretto, ben ragionato. Treno del dolore, ciuff ciuff, tutti in carrozza, mettendosi un'armatura atomica, scattare contro i nemici e li danneggiano i sbilanciamenti, i robot e i nemici enormi sono i muri di sbilanciamento, vabbè, ok, ci sta. Il talento funge con l'armatura atomica, quindi trae godimento dell'armatura atomica. Scattare contro i nemici, quindi qualsiasi nemico di media piccola statura, li danneggiano i sbilanciamenti, però i robot e i nemici enormi, tipo i super mutanti giganti, let's glow citato in precedenza, eccetera, e i robot tipo la sentinelle o gli assaltron non vengono sbilanciati, sì e come no. Ci sta, se utilizzate la motore atomica potrebbe essere molto molto buono questo talento. Infine, anzi, in mezzo al talento 2, scusate, con grado 2, l'armatura atomica crea gravi danni e uno sbilanciamento più potente, ok, lo ripetono i robot e sono immuni a sbilanciamento come i mostri grandi. Scattare con l'armatura atomica causa gravi danni di stand al tappeto, saltare ai vicinanzi agli nemici infligge ancora più danni, wow. Allora, voi prendete l'armatura atomica, salte giù dal palazzo e fate i danni a chi sarà sotto di voi, questo malagurato, sfortunato bersaglio, e in più stand al tappeto nemici di media taglia, di sempre appunto, correndo l'incontro. Ok. Andiamo quindi con forza 10, un livello 50, quindi penso proprio che il 50 sia il level cap di Fallout 4, quindi al massimo livello, infliggeremo molti più danni con questa armatura atomica scattandola in faccia alla gente e infine saltando faremo ancora più danni di quelli che si fanno di solito saltando giù da un palazzo, da una casa, da un cornicione con una armatura atomica. Quindi andiamo velocemente adesso a vedere il prossimo attributo che è la percezione e quindi tutto ciò che ne concerne. Andiamo. Allora, percezione. Si sa la percezione serve per lo spawn eccetera eccetera, quindi è un talento diciamo non da solito valutare, è molto 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 buono anche questo qui. Andiamo a vedere velocemente. Borseggio. Le tue di taggi ti rendono più facile, il borseggio su più facile è il 25%, quindi vi sedete e quindi vi accovacciate più che altro con il talento della fortività, il talento è una meccanica di gioco e quindi borseggiate le persone o i malcapitati o chi per esso. Potete borseggiare a chiunque nel gioco nel gioco, da roba in poi. 25% primo livello, è più facile il 50% con il secondo livello e poi la cosa più fantastica di Fallout 4 e 3 e company. Potete mettere una granata pronta a esplodere nel vettario di una persona. Quindi vi sedete, borseggiate, lasciate la granata e questo qua esplode. È più scenografico che utile ma alla fine è veramente bello vedere, scusate la cattiveria, esplodere una persona mettendoli in una granata nell'inventario. Borseggio. Le tue di taggiare più facile il 75% puoi rubare l'arma in cui bagiate. Ok, andate furtivo, rubate l'arma del malcapitato e poi voglio proprio vedere come vi attacca senza arma. Utile, utile se sapete, sapete. Bisogna saper andare in stealth, cioè andare molto furtivi, quindi varia da coasione a coasione. In più, borseggiare doppiamente furciacele e poi rubare gli oggetti equipaggiati. Un po' fuoco anche questa. Inneggia il ladrocino, quindi bellissima abilità anche questa qui del borseggio. Rende, cioè puoi rubare gli oggetti equipaggiati, quindi potete immaginare come funziona. Ok, fuciliere, tenete distanza e mette vittime senza stosta. I fucili in automatico infliggono il 20% di danni in più. Wow. Ok, fucile, spari, 20% di danni in più con questa abilità. In più, fucile al grado 2, fate più 40% di danni e ignorate il 15% di armatura del bersaglio, quindi parliamo sempre di danni fisici, non di energia oppure di radiazione, quindi danni. A livello 2 con di fuciliere. A livello 3, 60% di danni e ignorate il 20% di armatura del bersaglio. E' bello anche questo, sono 20% di più, quindi aumentano i danni. A livello 4, i fucili non automatici infliggono 80% di danni e ignorano il 25% di armatura del bersaglio. Inoltre, hanno una piccola probabilità di menomare un arto. Wow, anche qui si tratta di arti, quindi menomate con i fuciliere, come la stessa cosa come pugni di ferro e quella per armi della mischia, possiamo menomare l'avversario. Infine, gli attacchi ai fucili non automatici infliggono il doppio di danni e ignorano il 30% dell'armatura dell'avversario. Inoltre, con una ridotta probabilità di aggiuntivo di menomare l'avversario. Ok, potete, avete più probabilità di menomare un arto, infliggete danni e doppi e ignorate il 30% dell'armatura con i fucili non automatici. Tipo fucili a caccia, quelli mi sembra proprio che non siano automatici. Penso che come automatici vengono inteso i fucili di ammettere la dieta, tipo le ammettere la dieta. Consapevolezza, per sconfiggere i mischia, dovremmo essere la sua debolezza e l'esistenza dei danni di bersaglio sono visibili sullo spawn. Ok, parentesi. Questo qui è un altro elemento che come vedete non sale, perché lo prendete e potete vedere l'armatura, la debolezza, praticamente sì, l'armatura, la debolezza al danno e, come vi dicevo prima, il danno con le armi da, oddio, a energia, oppure con la radiazione e il livello dell'avversario. E' utile tipo uno scan nei giochi di ruolo, insomma, sapete lo scan, oppure, non so come si chiama, non so citarvi in altri titoli, insomma, quindi potete vedere le debolezze dell'avversario. Scassinatore, come vedete l'ho preso anch'io, perché serve ad aprire le serrature di livello medio. Poi il livello 2 è difficile, il livello 3 sarà arduo e infine il livello 4, adesso andiamo a vedere subito di cosa si tratta. E' utile nel gioco, perché troverete 255.000 serrature a scassinare, quindi, con percezione, con 4 livelli di percezione della Tevutus, potete scassinare. Infine, a livello massimo, non rompete mai le forcine, quando scassini qualcosa. E' utile come no, ne trovate di forcine nel gioco. Più che altro, è più utile sapere scassinare la serratura a livello arduo, medio o difficile, piuttosto che non vi si spacca. Esperto in demolizione, più fare rumore, meglio è. Gli esplosivi infliggiano il 25% di danni e può creare esplosivi in laboratorio chimico. Fantastico, per chi piace vedere esplodere tutto, quindi gli esplosivi, quindi le granate, le granate, come si chiamano? Le granate, le palle di blaze bull, esplosive, le granate, cioè tutto quello che ne concede l'esplosione, infliggerà più danni. E quindi potete anche crearle nel laboratorio chimico, che troverete più o meno dappertutto nel gioco. più o meno. E 50% di più di danni a livello 2, e vedete, questo qui è molto interessante, perché potete vedere nello spoglio una traiettoria della granata, ed è buono. E il 65% di danni e un'area maggiore, quindi potete tirarvi da casa vostra a metà mappa, no, sto scherzando, potete lanciare le granate dove volete. Esperto in munizione, fantasticissimo, che appunto, come vi dicevo prima, gli esplosivi infliggono danni doppi e già lì ci sta. Le mine e le granate usate con la spawn esplodono causati danni doppi, quindi potete usare una spawn e lanciare le granate, quindi causeranno danni doppi. Notare bene che le granate non possono essere sparate con lo spawn. Quindi nello spawn potete solo danni da mischio oppure danni con fucili, pistole eccetera eccetera eccetera. Creatura notturna, se una creatura tiene più di due intelligenti apprezzazioni tra le 18 e le 6, ricordatevi, le 18 e le 6 del gioco, quindi non quando giocate a casa nel vostro orario ma nell'orario del gioco, quindi tenete sempre d'occhio l'ora nel gioco, potete vederla sia nel menu principale del bboy, oppure insomma anche dove lo vedete, ok, si quando dormite, quando dormite lo vede, puntate, fate dormi praticamente, fate clic su dormi e vedete l'ora dei bersagli, l'ora dei bersagli, l'ora di gioco praticamente, diciamo l'ora di gioco, in più beh lo vedete perché quando viene buio appunto si può attivare il talento ma alla fine è molto meglio di ottenerlo d'occhio, nell'ora di gioco che vi viene più facile, ottiene più 3 intelligenza e percezione e puoi vedere il buio quando ti giri furtivamente, diventate un vampiro, diventate un gatto, molto bello rifratore, a livello 3 della percezione, 7 scusate percezione, ottenete istantaneamente più 10 di resistenza all'energia, quindi l'arma e l'energia, questo talento è buono, come vedete più sale più ottenete resistenza all'energia è buono perché, perché tanti utilizzano l'arma e l'energia in fallout, quindi tanti nemici diciamo, tanti nemici su voluntanti, sistetici, eccetera eccetera eccetera, se volete resistere quindi ai danni, fa molto comodo fa molto comodo, non mi fa impazzire ma fa comodo veramente, non mi fa impazzire però, dai, diciamo che non mi fa impazzire ok, cecchino, a livello 8 della percezione, concentrazione, atto e controllo sono utiliati potete tenere il respiro più lungo quando prendi la mira, quando prendete la mira con un fucile non automatico e da cecchino, diciamolo, da cecchino, e trattenete il respiro, con questo si trattene il respiro più lungo quindi con l'applicolato è l'L3, cioè le vite di sinistra tenendo premuta e mantenete il respiro, quindi con questo potete tenere il respiro più lungo, i fucili di comerino non automatici hanno, come dicevo prima hanno una probabilità di mettere il tappeto tutto avversario, quindi li sparate, lo prendete e lo capottate lo sdraiate praticamente, con il livello 2 di cecchino, ci vuole abilità anche in questo, bisogna saperlo utilizzare bene 25% di precisione per il copiatesto con lo spawn, con il talento cecchino a livello 3 wow, se utilizzate lo spawn con il cecchino, con il fucile cecchino, o se de scarsi, no sto scherzando lo utilizzo anch'io ogni tanto, però è più bello utilizzarlo in manuale, senza lo spawn alla fine dà più soddisfazione, come spesso faccio con i miei video 26% sguardo penetrante, non ci sono posti dove nascondersi, con lo spawn puoi puntare parti nemiche nascoste da strutture con precisione ridotta, ok potete sparare di tre mure alle persone punto, e boh, il talento qua mi dà molte perplessità puntare a parte del corpo di precisione, puntare dietro alle strutture oddio, va bene come attacco sorpresa alla fine, va bene come attacco sorpresa quindi boh, può essere buono come no, a me non mi fa impazzire quindi non mi piace tantissimo questo sguardo penetrante, questo talento qui molto ma molto più bello secondo me, molto ma molto più interessante è il talento fuoco concentrato che trovate a livello 10 di percezione quindi 10 pollini di percezione e vi sblocano questo talento qui concentrati per ogni attacco contro il stesso spazio del corpo e dello spawn ottieni più di 10% di precisione, quindi selezionate che ne so, il torace, le braccia, la gamba, come vedete qui nella piccola miniatura e braccio eccetera eccetera, e utilizzate il più di 10% e ci utilizzate avrete il più di 10% di percezione wow, alla fine prendendo il talento non aumenta i danni, aumenta solo la precisione quindi con il talento 2, probabilità con la stessa parte del corpo e dello spawn tendi più di 15% di precisione infine, eccolo qua, bello sfruttato al massimo a livello 50, quindi cap, come dicevo, probabilmente cap di fallout 4 almeno nella versione senza DLC, nella versione vanilla come si suol dire e per ogni attacco con la stessa parte dello spawn ottieni più di 20% di precisione ed infliggi più di 20% di danni wow, finalmente si sentono i danni 20% di danni con la stessa parte del corpo si sentono perchè se puntate una gamba e ovviamente avendo precisione e continuate con l'attenanza a sparare sulla gamba prima o dopo la gamba si stacca detta proprio così, molto brudamente si stacca bene, molto bene abbiamo finito questa prima parte della nostra guida ai talenti della mia guida ai talenti ci vediamo nella parte della prossima guida con tutti gli altri talenti che rimangono spero che vi sia stato utile fino adesso grazie ed arrivederci